Avvocato Loredana Trotta, è da poco finito il periodo di questa miriade di manifestazioni contro la violenza sulle donne. Lei ha fatto una brillante dissertazione alla scuola Bessa Gloriosi con i ragazzi di questo istituto, ma oggi a bocce ferme, come può continuare questa lotta per combattere la violenza alle donne? Innanzitutto la violenza contro le donne va combattuta proprio attraverso la formazione delle coscienze, partendo dalla scuola che è la seconda cellula della società dopo la famiglia. È qui che si formano i giovani, è qui che si formano le coscienze. La violenza contro le donne rappresenta una piaga sociale, un fenomeno di natura trasversale che colpisce le famiglie meno abbienti come le cosiddette famiglie insospettabili. E mi riferisco alle famiglie dove c'è un grado socio-culturale ed economico più elevato. La violenza contro le donne purtroppo viene perpetrata in tre modi. La violenza fisica, che è quella appunto refertabile al pronto soccorso, che si perpetra attraverso le lesioni, le percosse. Poi c'è una violenza più subdola, che tende ad annientare l'autostima della vittima. E c'è una violenza di natura economica, molte volte in un nucleo familiare a lavorare e solo il marito. In questi casi purtroppo le donne maltrattate sono costrette sia per loro stesse che per i figli a dover subire e a non poter quindi pensare ad una separazione, ad un divorzio, perché l'unica fonte reddituale è data dall'entrata del coniuge. Avvocato, senta, ma a lei che si interessa di diritto di famiglia c'è ancora da fare molto a livello di istituzioni. Che cosa propone per poter tambonare questa piaga che è sociale? Certo, è una piaga sociale perché sicuramente nasce da una cultura patriarcale che appartiene al nostro costume sociale, che fa fatica ad accettare l'emancipazione della donna. Sicuramente per noi addetti ai lavori, per noi avvocati familiaristi e specializzati in diritto delle persone, il lavoro va fatto a 360 gradi e va fatto mediante un'attività di sinergia con altre figure professionali. Guardate, qui non si tratta di ricorrere a una procedura di sfratto, a una procedura di infortunistica stradale. Qui gli avvocati, gli studi legali al pari di un pronto soccorso gestiscono dei fatti gravissimi, delle tragedie in mani e dal punto di vista fisico ma anche emotivo. Perché poi non dimentichiamoci che molte volte spettatori di questa violenza sono anche i figli. La cosiddetta violenza assistita con tutti i disagi, i traumi che poi nel futuro questi eventi arrecano ai minori. Sicuramente la convenzione di Istanbul del 2011 che per la prima volta identifica e qualifica la violenza contro le donne come la più vergognosa violazione dei diritti umani ha introdotto le cosiddette 4P. Tra queste 4P forse la più fondamentale è la prevenzione. La prevenzione che deve perpetrarsi attraverso un sistema di politiche integrate, ovvero a livello istituzionale, tra i servizi sociali, tra il mondo dell'avvocatura, il sociale, la mediazione familiare. Forse solo così si può cercare di sradicare questa piaga sociale.